La città chiama, lo Stato risponde. Ha incontrato il prefetto di Salerno Salvatore Malfi, il sindaco di Nocera Inferiore Maglio Torquato, al quale si era appellato dopo i fatti di cronaca di due settimane fa, che avevano visto protagonista in negativo la sua città. Ampie rassicurazioni e collaborazione massima ricevuta dalla massima autorità di governo in provincia. È già partito un piano che ha visto il rafforzamento della presenza di uomini indivisa per strada e di operazioni di polizia mirate alla prevenzione di fenomeni criminali e dalla repressione. Al prefetto, il primo cittadino nocerino, ha chiesto anche il potenziamento degli organici, soprattutto del commissariato di polizia, che avrebbe bisogno di nuova linfa. Nell'incontro, affrontato anche il tema della Movida, a tal proposito, Torquato si rivolge anche ai fatti bianchi, che siano più presenti in strada ed anche, se possibilmente, in orari notturni. Ci sono state ampie rassicurazioni, so che l'espressione non rassicura quando uno dice ci sono state ampie rassicurazioni. Ci sono state rassicurazioni poi riscontrate con le attività che sono partite già il giorno dopo, da parte del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e del Delegato del Questore, oltre che dello stesso prefetto, che ringrazio perché il prefetto Malfi, non sono tenuto a dirlo, non l'ho detto quando non lo pensavo di altri, è una persona di assoluta sensibilità politica e questa è una cosa molto importante. Quando diciamo politica non dobbiamo pensare agli aspetti negativi, ma agli aspetti positivi, cioè della gestione del territorio, la comprensione che manifesta costantemente per le esigenze sociali, di territorialità, anche le funzioni che un sindaco assolve. Quindi davvero lo ringrazio con forte convinzione, perché è un prefetto che sta facendo benissimo la sua funzione. Si tratta sempre di gestire le cose con equilibrio, credo che anche il nuovo colonnello dell'Arma dei Carabinieri, il nuovo Comandante Provinciale, abbia ampiamente recepito la situazione, che gli è stata attenzionata, alcuni punti critici dal punto di vista della frequenza. Ho chiesto una presenza più costante, ecco, non l'attività solo di Polizia Giudiziaria o di Forze dell'Ordine, che svolgono egregiamente, non pensare sempre e soltanto alla tifoseria della Nocerina, perché ci sono cose molto più serie, insomma, di cui doversi preoccupare, certamente non quella, e avere la consapevolezza, che credo sia ampiamente avvertita, anche che gli organici di Polizia debbano essere integrati con un personale un po' più fresco e più numeroso, perché il nostro commissariato è di fatto una vicequestura, quindi ha funzioni molto pesanti. Abbiamo fortunatamente un reparto territoriale dei Carabinieri, che è qualche cosa in più di una compagnia, anche qui ad oggi ottimamente retto sia la compagnia sia la stesso Comando Stazione. Abbiamo visto, penso che molti l'abbiano notato in queste sere, ci sono pattuglie di Polizia di Stato, presenza dei Carabinieri che vanno anche oltre quello che è il normale controllo di territorio. Siamo soddisfatti di questo aspetto e dobbiamo fare, soprattutto, ecco, questo è un invito anche pubblico, che faccio, non a me stesso, ma a chi regge il comando di Polizia Locale, a esercitare attività più continue e soprattutto anche oltre gli orari che ci interessano. Ecco, mi piacerebbe titolare, la città chiama, lo Stato risponde, per rendere più tranquilla la vivibilità in una città che in realtà lo è già. Ad oggi abbiamo un buon riscontro da parte delle forze dell'ordine e della Prefettura. Speriamo che continui, ecco, l'impegno, non esistono missioni raggiunte nella gestione di un'amministrazione pubblica o di una comunità, quindi vanno continuamente rinverdite. Abbiamo avuto modo di rappresentare la situazione territoriale di Nocera, che conosceva bene, che ha dovuto conoscere inevitabilmente per quanto era accaduto a Pierimonte. Abbiamo anche condiviso una valutazione che non è di minimizzazione, perché è una situazione che non va minimizzata, ma che però ha una sua specifica perimetrazione, cioè una città che è sostanzialmente frequentata, sostanzialmente tranquilla, che ha punti di criticità sul suo territorio, che ha anche però delle figure che sono notoriamente dedicate ad attività criminali o di reato, ma che non rappresentano l'espressione di una società territoriale e comunale toccata, anzi che è ampiamente sana. Abbiamo condiviso il fatto, a dispetto delle recriminazioni di tanti cittadini sulla Movida Nocerina, perché delle volte non fa dormire o fa dormire poco, che il fenomeno va tenuto sotto controllo. In questo le attività di Polizia Municipale dovrebbero essere più attive, più presenti anche negli orari di tarda serata. Però è purtuttavia vero che questo consente di avere una città frequentabile, perché i locali che sono aperti fino a tardasera permettono alle persone, ai ragazzi, di camminare con tranquillità la città in modo libero, cosa che altrove non avviene, perché quando le luci dei negozi spengono in molte parti d'Italia, non soltanto della Campania, la città non si può più attraversare, non si può più vivere. Grazie a tutti.